Il sindaco di Castrovillari, Mimmo Lopolito, ricordando agli studenti che l'istruzione è fondamentale per la loro crescita e per garantire la scuola in presenza, ha disposto da mercoledì pomeriggio alle ore 15 e tutti i giorni successivi fino a sabato la possibilità di eseguire gratuitamente i tamponi antigenici per tutti gli alunni frequentanti le scuole della città e per il personale scolastico delle stesse. Ovviamente non sono solo slogan nel discorso delle scuole aperte, noi vogliamo che le scuole siano aperte in sicurezza con il rispetto delle regole e noi siamo in grado di fare la nostra parte perché come Comune abbiamo comprato i tamponi, ho chiesto la disponibilità alla Croce Rossa che mi ha dato immediatamente la richiesta di disponibilità anche alle altre associazioni, riprenderemo all'area mercatale a fare i tamponi gratuiti esclusivamente per tutto il personale scolastico, inteso come insegnanti, personale docente e non docente, per tutti gli alunni affinché ci sia un tracciamento vero, reale e immediato proprio per garantire al massimo la sicurezza. Quindi ripeto, per tutto il personale scolastico e per gli alunni i tamponi gratuiti che faremo all'area mercatale grazie alla disponibilità dei volontari che ho citato prima.